In questo video vi mostro le mie ultime due partite dal sfidante 1, dalla Lega 1 alla Lega 2 Quindi prima di partire vi ricordo di iscrivervi Primissima cosa importantissima che mi aiuta un sacco Seconda cosa lasciate un like se volete E se proprio volete in più in più un commentino che io li leggo tutti Quindi via col video Prima partita Let's go Proviamo a vincere contro Forget About It Quindi dimenticati di ciò Va bene mi dimenticherò Cosa faccio in questi casi Metto Ehi 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 bro 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 Calmati 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 bro calmati Ti prego non mi chiedere i cosi Niente Niente raga Raga ma perché devo beccare sta gente Perché devo beccare sta gente Che first play mi spammano la roba al ponte Madò madò Le malattie le malattie No vabbè Madò 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 Mi li delle frecce Faccio Fai il panico Raga fai il panico Bella con la furia Mi è piaciuto un botto Raga come fare a rimontare sta partita Manco il gioco Manco il gioco Qua non mi frega niente se mi tira i cacchi e macchi che c'ha voglia di tirare Io devo andare forte Ok qualcosa di non morirà Torre 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 una 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 ok ok calma 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 Siamo ancora in pista raga Come se non faccio Eeeh Eeeh Niente Basta che non mi muoiono quelle cose No la crone No la crone raga La crone Ok Potevo farmi molti più danni Però io adesso devo recuperare duemila danni e quattro di visita raga Tutorial vi prego Non so cosa fare Non so cosa fare Penso che devo un attimo aspettare Quella Boh schiatta C'è un coso sopra qua così Costruiamo dal basso Se lui mi spama con la torre gliela lascio E adesso ci devo le frecce Ma non giù a te Ma non giù a te Barriere d'ostra perché fa un mai assurdo Dai che adesso arriva l'elisir doppio Ok mi piace quel coso lì che sta a sinistra E non mi colperà assolutamente gli scheletrini Buoni danni No vabbè Ok buoni danni Buoni danni Buoni danni ma non abbastanza ragazzi Ecco 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 Perché ecco perché non abbastanza Per questo Per questo raga No raga no raga la fermiamo La fermiamo No itta itta Eeeh è andata E' andata 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 Eh si si è andata Bisogna Bisogna pushare Lui ha tirato quella lorda lì Che quasi quasi io Faccio una cosa del genere Per proteggermi quello Quello lì doveva battere a torre Ragazzi devo fare i danni Devo fare i danni Dai Mi basta Ok 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 una U Ok però C'è un problemino Del tipo L'anea torre centrale Al 2800 Lui mi piacerà Una roba del genere qua Bongolfiera Boscaiolo lì E non avrò la più palida idea Di cosa fare E quindi rimarrò Leggermente Vedi se lui Me la mette Vabbè Finchè la Finchè se la gioca così Ecco ecco Questo Questo non doveva accadere Però lui ha tirato subito La roba No raga Dei darci le frecce Raga no Due hit no Due hit no No tre hit no No raga Andate andate Non è vero Non è andate raga Il trago e padale Ha connesso Ha connesso Non è vero raga Non è vero Non è vero Non è vero raga Non è vero Non è vero Non è vero raga Non è vero L'ho vinta Mamma mia che partita Vai raga Secondo game Secondo game Secondo game Secondo game Vamonos Ho sbagliato? Sì No Sì Sì No raga C'ha qualcosa lì Raga Ma come c'è che fa A avere sto coso qua In lega 1 Stai messo male Zio Per avere quello In lega 1 Attiva stabilità Attiva stabilità Su Non farti aspettare Eccola Urca Urca Ti prego Uno Uno può itare Ma due no Ok Va bene raga Va bene C'è un Gran cavallere Metà vita Ma ovviamente Quello c'ha i cacchi Di scheletrini Mentre raga Ho beccato un sudato Raga un sudato È questo C'ha il cavolo Di Gigante scheletrone E sta in lega 1 C'è ma C'è qualcosa Che non quadra Il push Il push Il push Raga ho messo Troppo presto Il minatore Non so cosa Non ho regalato La torre infernale Andate raga Torre infernale No raga Devo tirare per forza Il gran cavallere Adesso È l'unico È l'unico Non mi interessa Non mi interessa È l'unico momento In cui posso fare qualcosa Col gran cavallere Perché Se Gli faccio Tenere La torre infernale Nel momento giusto È finita Raga È finita No possibility Non ho attivato L'ability Ma do che giocata Via via Tutti quei cose Via via Levateli Levateli Ok torre Raga è torre Torre Buona 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 la mia giocata Buonissima Raga Buonissima Adesso devo solo difendere 1 minuto e 16 Io non piazzo niente Raga 1 minuto e 16 È più che fattibile Più che fattibile Raga Più che fattibile Più che fattibile Calmissimi Raga Calmissimi Eccola la drillata Che arriva Ok Ci dire Oh Calma 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 Che ci sta qualcosa lì Che fa male Fa male Fa male Quello Fa male Troppi danni Troppi danni Ho preso Troppi danni Ho preso Troppi danni Ho preso Raga 43 secondi 690 di vita Posso ottenerli Raga No In bocca Io lo metto Raga Non mi interessa Io lo metto in bocca Boni Boni Quegli scheleti Boni Boni Ma ha connesso Ma come Che ha connesso lì Ok Drillata No raga No raga No raga No raga Ok Ha spawnato l'ability Ma va bene Va bene Freccette Va bene Va bene No raga Non c'è niente Ti prego Mettila qua Ok La messa lì Ok Counterata 236 No Log 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 E' nostra Sfidante 2 E' nostra Sfidante 2 Si chiama Sfidante 2 No No so Legante E' legante Lega 2 Ben fatto Raggiunta la nuova Lega Grazie boss Zio Grazie zio Vabbè raga Grazie a tutti Per tutti quelli che sono arrivati fino a qua Vi ringrazio Ci vediamo il prossimo giovedì Con un prossimo video di Clash Royale Bella a tutti Un bacione Iscrivetevi Lasciate like Ci vediamo Giovedì Ciao